Quando si parla di amianto si pensa a gigantesche fabbriche dismesse e colossali stabilimenti risalenti ad altre epoche, quando la sensibilità sull'Eternit e le sue conseguenze erano sconosciute ai più. Ma ancora oggi ci sono luoghi pubblici frequentati, vissuti in cui l'amianto dissemina le sue fibre velenose. E tra questi luoghi, sembra incredibile, ci sono 2400 scuole dove ragazzi, docenti, personale amministrativo e addetti respirano la polvere killer. Per quanto concerne la regione Sardegna sono 395 le scuole che contengono amianto. Ora, sotto la lente di ingrandimento dei media, l'istituto comprensivo di Cabras. In quella scuola si sono verificati troppi casi di tumore. A lanciare l'allarme sulle pagine di un quotidiano sardo è Mario Sanna, direttore dei servizi generali e amministrativi alle scuole medie dal 1983 al 2002. L'uomo ha dichiarato apertamente di essere a conoscenza di almeno 22 casi di cancro, tra i quali almeno 8 si sono rivelati mortali, che hanno colpito persone che hanno lavorato nell'edificio delle scuole medie del paese in provincia di Oristano. Questa cosa l'ho sempre avuta in testa, precisamente da quando sono andato in pensione, ha aggiunto l'ex direttore. A dare una conferma ai miei sospetti è stato l'aver letto degli 11 casi di tumore all'ex provveditorato di Nuoro, che si sospetta collegato alla presenza di fibre di amianto nella pavimentazione in linoleum e delle inchieste del PM turinese Raffaele Guariniello, sempre sui possibili rapporti tra il materiale da pavimentazione e il cancro. Le repliche sull'attuale caso non si sono fatte attendere. Non abbiamo mai ricevuto nessuna segnalazione sull'incidenza di tumore fra i lavoratori delle medie, ha dichiarato l'attuale preside dell'Istituto Comprensivo Marina Enna. Spero che chi ha fatto questa denuncia abbia le prove di ciò che afferma. In ogni caso, ha continuato la dirigente, informeremo tutte le autorità competenti e faremo tutti gli accertamenti del caso. Abbiamo preso atto di questa segnalazione, ha dichiarato il sindaco di Cabras Cristiano Carrus. Ora aspettiamo di avere più elementi per comprendere la situazione. Una situazione precaria, poco personale e reparti aperti solo durante il giorno. Questo è il terribile stato in cui versa l'ospedale De Logo di Ghilarza e di cui il consigliere regionale Domenico Gallus ha denunciato le condizioni tramite un'interrogazione alla Giunta Pigliaru e all'assessore alla Sanità Luigi Arru. Il tutto è emerso qualche giorno fa, quando l'unico anestesista della struttura ospedaliera è stato costretto a rimandare un intervento chirurgico programmato per dare apporto a una donna con emorragia cerebrale, giunta al pronto soccorso a bordo della sua automobile e poi mandata in elicottero al civile di Sassari. Oltre al fatto che in tutto l'ospedale presenta un solo anestesista che lavora solo i giorni feriali con turni di sei ore e senza reperibilità, la situazione di Ghilarza è aggravata anche dalla sezione di radiologia che rimane aperta 12 ore al giorno, esclusivamente da lunedì al venerdì. A ciò si aggiunge l'unità di medicina interna, in cui il personale è ridotto ai minimi termini. Identica la situazione all'interno del pronto soccorso, in cui oltre alla presenza di soli tre medici è lampante la mancanza di un dirigente. Secondo il portavoce del gruppo misto, questa situazione è inaccettabile per la popolazione, non solo di Ghilarza, ma per tutti coloro che fanno riferimento al polo ospedaliero del Margine. Servono provvedimenti urgenti e almeno cinque unità in più per ridare dignità alla struttura e fare in modo che operi con i più alti standard in base alle esigenze dei cittadini del territorio circostante. Così conclude in una nota Gallus. Non è notizia di oggi il fatto che l'intera Carlo Felice versi in condizioni pessime, soprattutto in alcuni tratti stradali in cui gli infiniti lavori, che continuano da quasi trent'anni, non sono ancora arrivati o sono oramai avvenuti in un passato quasi remoto. E in certe zone le condizioni sono davvero disastrose. Una corsia completamente distrutta da bucche e dossi con gravi rischi per la sicurezza di chi viaggia sulla statale 131 all'altezza del paese di Paoli Latino. Sono quattro i chilometri dal 119 al 122 che costringono gli automobilisti a effettuare il cambio di corsia, immettendosi in quella di sorpasso. Il pericolo è alto, soprattutto in questo periodo con l'avvicinarsi di condizioni meteo avverse come pioggia, neve o nebbia, che potrebbero peggiorare maggiormente il tratto stradale e le sue condizioni di degrado. E' questo il motivo che ha spinto il consigliere sindaco del paese Domenico Gallus a muovere un'interrogazione al governatore Pigliaru e agli assessori ai lavori pubblici e ai trasporti. E' necessario, dichiara Gallus in una notta, intervenire quanto prima per ripristinare il manto stradale totalmente degradato e per evitare terribili incidenti. In arrivo a 25 milioni di euro per le imprese agricole sarde è colpita da una delle peggiori siccità che ha causato ad oggi 300 milioni di euro di danni. Questo grazie ad un emendamento presentato dagli onorevoli sardi, cappelli, uras, lai, angioni e cucca ha approvato ieri pomeriggio in commissione bilancio al decreto fiscal collegato alla manovra. 10 milioni di euro saranno assegnati nel 2017, i restanti 15 nel 2018. Un plauso ai 5 senatori, lo dichiara soddisfatto il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Una buona notizia che arriva in una nata terribile per tutta l'agricoltura sarda. Una boccata di ossigeno per tutte quelle imprese agricole, colpite indistintamente dalla mancanza di precipitazioni e dalle altissime temperature che hanno dimezzato e in alcuni casi azzerato le produzioni e aumentato i costi di gestione delle aziende. 25 milioni, continua Qualbu, che andranno a sommarsi ai 65 milioni istanziati dalla regione Sardegna. 45 milioni per i pastori e i restanti 20 per tutti gli altri settori. Dotazione è quest'ultima che vogliamo che in finanziaria sia portata a 50 milioni, vista la portata dei danni, aggiunge il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Come organizzazione continueremo ad adoperarci affinché i tempi di erogazione dei fondi siano i più rapidi possibili. La pesca dei ricci di mare è giunta al capolinea e non ci possiamo permettere di ignorare i danni che provoca l'ecosistema marino. Questo è lo spirito che ha guidato il deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Andrea Vallascas, a presentare un'interrogazione al Ministro delle Politiche Agricole. Il capogruppo stellato sostiene a gran voce come il piano di regolamentazione della raccolta dei ricci di mare approvato qualche giorno fa dal governatore Pigliaro per questa stagione, nonostante abbia diminuito la quantità di ricci da raccogliere, sia comunque eccessivo e sconsiderato, soprattutto in alcune aree. Nella penisola del Sinis, ad esempio, il numero di ricci si è nettamente abbassato. Secondo delle ricerche, infatti, fino a qualche anno fa se ne potevano trovare 10 per metro quadro. Ora, invece, è già molto se si riescono a contare 4 ricci all'interno dello stesso spazio. Secondo Andrea Vallascas, è necessario il divieto assoluto di pesca, almeno per qualche anno, soprattutto all'interno delle aree marine protette. Ciò farebbe aumentare la presenza di ricci, esattamente come è avvenuto nell'area marina di Capocaccia, isola piana ad Alghero, dove si è registrato un significativo ripopolamento di questa specie. Nei mesi scorsi è giunta in regione anche una petizione firmata da più di 10.000 persone, le quali chiedevano, in vista del nuovo decreto, di introdurre norme più restrittive, come l'applicazione del principio di territorialità, quindi l'autorizzazione solo ai pescatori residenti, oppure il divieto dell'utilizzo delle bombole. La petizione è stata ignorata e Vallascas si dice preoccupato, in quanto anche questa stagione pregiudicherà ulteriormente le condizioni dei fondali della nostra costa. Anche il Comune di Bosa dice no alla violenza sulle donne e lo fa in occasione della giornata internazionale del 25 novembre, un calendario ricco di eventi e manifestazioni, quello del Comune della Planargia, per ribadire la propria posizione contraria a qualunque forma di vessazione e violenza perpetuata al genere femminile. Il programma prevede martedì 21 la proiezione di un documentario con annesso dibattito rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il 24 invece sarà convocato un consiglio comunale straordinario sul tema alla presenza delle assistenti sociali per parlare dei casi e delle statistiche riguardanti il paese, ovviamente rispettando la privacy delle donne coinvolte. Infine il 25 novembre sarà la volta della Corsa Rosa. Giunta la seconda edizione, nella quale si correrà o camminerà per le vie del centro storico, la corsa è aperta a tutti e prenderà avvio alle 10.30. Oltre a tutto ciò, il Comune di Bosa ha dimostrato il suo impegno in questo senso, dedicando diverse vie e piazze ad alcune donne, simbolo della lotta contro la violenza. A Dinadore, ammazzata a Gavò il 27 marzo del 2008, è stato dedicato il lungomare di Viale Mediterraneo. Alla Bosana Giuseppina Secchi, assassinata ferocemente nel 1950, è stata intitolata una piazza del quartiere di Santa Caterina. Infine, il belvedere della via che conduce al castello di Serravalle ha preso il nome di Emanuele Alloi, agente della Polizia di Stato uccisa nell'attentato di Via D'Amelio del 19 luglio del 1992 contro il giudice Paolo Borsellino, a cui faceva da scorta. Sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna gli elenchi delle domande ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 755, che sostiene i grandi eventi identitari, religiosi, culturali e sportivi inseriti nel cartellone generale triennale e le manifestazioni di grande interesse turistico. Sono disponibili l'elenco delle stanze ammesse al primo intervento, l'elenco degli ammessi rientranti tra i maggiori eventi della tradizione regionale e l'elenco delle stanze non ammesse a contributo. A tutti gli ammessi è richiesta la trasmissione della dichiarazione formale di accettazione del contributo. Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi e la modulistica sono disponibili sul sito RAS. Nelle prossime settimane verranno anche pubblicati gli elenchi degli ammessi al primo intervento per i vari cartelloni tematici 2017 e gli ammessi al secondo intervento tra i maggiori eventi della tradizione regionale. Venerdì 24 e sabato 25 novembre le eccellenze enogastronomiche della Terra dei Giganti andranno in scena a Cabras con l'evento dal titolo I Sapori del Sinis. Si inizierà venerdì 24 alle ore 17 presso il centro Polivalente in Via Tarros con il convegno strategie vincenti per promuovere le eccellenze enogastronomiche del Sinis. Sabato 18 novembre alle ore 9.30 presso la Basilica Romanica di Santa Giusta avrà luogo la conferenza dal titolo I Mago che verterà sui simboli e messaggi nell'iconografia di età medievale. Dopo i saluti del sindaco Antonello Figus l'evento organizzato dall'Associazione Amici del Romanico sarà introdotto dal Monsignor Paolo Ghiani, parroco della Basilica di Santa Giusta e da Rossana Martorelli, presidente della Facoltà di Studi Umanistici delle Università di Cagliari. Trekking archeologico sulle sponde della Laguna di Santa Giusta Durante il nostro trekking per le vie della città, dichiaro in una nota gli organizzatori dell'iniziativa, costeggeremo lo stagno e ammireremo il paesaggio lagunare, parlando dei ritrovamenti subacquei che testimoniano le prime fasi di vita del centro abitato. Ci soffermeremo davanti ai resti del Ponte Romano, una delle più evidenti testimonianze dell'abitato in età romana, punto nodale tra le vie a Turre Carales, da Porto Torres a Cagliari, e a Tibulas Sulcis, da Santa Teresa di Gallura a Sulci Sant'Antioco. L'oristanese non è più immune dal virus della lingua blu. Nell'ultima settimana infatti si sono sviluppati numerosi focolai in molteplici allevamenti della provincia. Nell'attuale situazione se ne parlerà in un incontro promosso dal comitato allevatori della provincia di Oristano, che si svolgerà sabato 18 novembre alle 18.30 nella sala conferenze del comune di San Nicolò Arcidano. Dopo tre anni alla guida della federazione provinciale col diretti di Oristano, Giuseppe Casu lascia il posto al direttore regionale Luca Saba, per coprire l'incarico nelle federazioni provinciali di Roma e Rietti. Il passaggio di consegne è avvenuto ieri. Un emozionato Giuseppe Casu ha salutato i dirigenti e dipendenti di Oristano, ringraziando tutti gli associati per l'opportunità e l'esperienza maturata in questi anni, ricca di soddisfazione e di momenti di intenso lavoro politico sindacale, in una provincia caratterizzata da tante produzioni di eccellenza, dove agricoltura e zootecnia rappresentano il polmone dell'intero territorio. Grazie per la visione!